Ecco, poche domande e così termino, signora. Lei ha assistito alla perquisizione della polizia presso l'abitazione di via Signorini? Sì. Lei ricorda che venne rinvenuta una valigetta sopra l'armadio? Sì. Da quanto tempo quella valigetta era in casa? Da abbastanza tempo. Si trattava di una valigetta chiusa con una combinazione? Sì. Lei sa che cosa conteneva quella valigetta? Del denaro. Senta signora, adesso io saltello un po' qua e là perché sono domande conclusive. Sì. Lei prima ci ha detto che Roberto le parlò dell'ultima rapina che avevano compiuto, ho tentato di compiere poco prima dell'arresto. Sì. E io le ho sollecitato il ricordo attraverso la lettura di un verbale. Sì. Parte di un verbale. E le ho ricordato che si trattava della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Bologna. Sì. Ricorda se Roberto in ordine a quest'ultimo episodio le raccontò qualcosa di particolare che era accaduto alcuni giorni prima di quella tentata rapina? No, adesso... Adesso no. Nel verbale del 5 gennaio del 95, lei sul punto disse, per quel che riguarda l'ultima rapina compiuta a Bologna, la BNA, Roberto mi disse che sapeva che una persona le aveva visti e presumo che si riferisse a lui e a Fabio, mentre scendevano da una macchina e salivano su un'altra. Ricorda qualcosa adesso di questa conversazione? Sì, signora... Sì, 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 se era stata poi sentita da loro che l'essere sul giornale a volte sono un po' confusa. Comunque sì, che qualcuno le aveva, aveva annotato, diciamo, la targa, della targa della macchina di Fabio. Sì, lei aggiunse anche, disse cioè che erano stati visti mentre facevano il cambio di macchina. Sì. Roberto le disse anche quale macchina era stata vista? Quella di suo fratello. E cioè che macchina era? Forlì, però non ricordo la targa. No, il modello. Le prime... il modello? Che macchina era? Il tipo di macchina? Una Mercedes, mi sembra. Una Mercedes. Il colore Visone, non ricordo bene. Il colore... Lei sa poi che... Visone. Visone, mi sembra. Lei sa poi, Fabio, di lì a poco che cosa fece di questa Mercedes? Sì, cambiò la macchina e prese una macchina rossa. Una macchina rossa. Signora, pochi giorni prima dell'arresto, un vostro vicino di casa venne a chiedere a Roberto di interessarsi del furto di un'autovettura? Sì, però mio marito non c'era. È un vigile che abita sotto di noi. Chiese a me se c'era mio marito perché voleva parlare con lui, ma mio marito non c'era, perciò... Non ricordo neanche se ne parlai con mio marito. E che cosa voleva dire questa persona, suo marito? Che cosa era capitato a questa persona? Che gli era sparita la macchina, ricordo che gli avevano rubato la macchina, qualcosa del genere. E questa persona abitava in vostro palazzo? No, abita al 15 o al 13, sempre lì della stessa via nostra. Lei non sa che macchina avevano rubato a questa persona? No, che macchina di preciso no. Vabbè. Sì, perché lui, diciamo, essendo un poliziotto, pensavo che potesse fare qualcosa e basta. Comunque questa persona cercò il suo marito pochi giorni prima dell'arresto, vero? Sì. Senta, lei notò ad un certo punto un maggior afflusso di denaro in casa? Sì. Quando più o meno? Da quando cominciarono queste rapine. Quindi aumentò la contribuzione economica al bilancio familiare da parte di Roberto? Le bollette, quelle cose le pagava lui? Le pagava lui. Cambiò più spesso macchina? Sì, questo sì. Signora, Angelini Maria Grazia, cioè la moglie di Fabio Savi, sapeva che Roberto e Fabio commettevano dei reati? Sì, lo sapeva. È così categorica perché la Angelini Maria Grazia ne parlò anche con lei? Sì. Signora, in un primo tempo lei, sentita dalla polizia, non disse tutte le cose che oggi sta dicendo? È vero, è vero. Le disse, cominciò a dirle, diciamo così, per la prima volta quel 5 gennaio del 95 davanti a me, insomma, davanti al procuratore della Repubblica di Bologna, davanti al mio ufficio. Che cosa successe tra, diciamo, il mese di novembre, dicembre e quel 5 gennaio? Lei ricevette qualche telefonata particolare da parte di Roberto? Ricorda in particolare una telefonata che colpì la sua attenzione in modo... Mi disse che intenzioni hai? Ecco. Questo sì, mi ricordo da una telefonata, la prima mi sembra che lui mi fece, meno se non ricordo bene. Sì. Non lo so a cosa si rivolge, cioè a che cosa volevo... Ecco, prima di quel 5 gennaio del 91... Sì. Eh sì. Del... 95. Sì. Ricorrono sempre le stesse date. Prima del 5 gennaio del 95, pochi giorni prima, Roberto dal carcere la cercò? Sì. Telefonicamente. Sì. Le disse che doveva prendere delle decisioni importanti? Sì. Lui? Sì. Lei chiese spiegazioni a lui? No. Ha mai capito quali decisioni importanti doveva prendere Roberto? No. Queste... No. No. Decisioni importanti no. Non so di cosa parlasse lui. Lo ha saputo successivamente? A quali decisioni importanti faceva riferimento Roberto Savi? No. Adesso non... Non momento non... No, glielo chiedo perché le è stata chiesta più volte questa cosa e ha sempre detto di no. Se oggi per caso le sovviene qualcosa. Non lo so che decisioni potesse... Non lo so di preciso. Non glielo spiegò. Non glielo spiegò quali erano le decisioni importanti che doveva prendere. Senta, suo marito, cioè Roberto, aveva la passione per le moto? Sì. Usava dei sottocaschi? Sì. Senta, tornando un attimo a quella sera del 4 gennaio del 91 e i discorsi che poi Roberto le fece successivamente. Roberto, ha mai espresso suoi giudizi sul conto di Alberto? Cioè, come lo definì mai in senso criminale? Cioè, era persona affidabile, incostante? Era una persona molto pauroso, insomma, una persona... Come posso dire? Che aveva molta paura di suo fratello, lei dice, vero? Di Alberto, di Alberto. Le disse... O lei apprese, man mano che veniva a conoscenza dei singoli episodi, quando Alberto era entrato a far parte, diciamo, della banda, quando ne era uscito e quando ne era rientrato? Io so che ne uscì e poi rientrò... Io so che nei caselli lui c'era. Ai caselli c'era? Sì. Alle coppe non ricordo di preciso... A quali o così via. E poi? E poi... Non ricordo di preciso quando smise proprio... Lei quindi oggi, stasera, non ci sa dire quando lei seppe che Alberto uscì dal gruppo, diciamo così. Anche perché, come dico, certe cose poi le imparavo da mio marito. Anche perché a volte chiedevano, viene più Luca? E lui mi rispondeva che aveva smesso, o così via, oppure ricominciava... Senta, nel verbale del 15 febbraio 1995 le disse... Sì. Parlando di Alberto. Roberto mi disse che costruire in costante, in quanto dopo aver partecipato alle rapine e caselle autostradali e a qualche altro colpo, decise di smettere, ma in seguito chiese nuovamente di entrare, per poi uscirne ancora, dopo aver partecipato, all'eccidio del pilastro. Sì. Dopo le... Sì, però non so se successe qualcosa dopo il pilastro, dopo poco, smise, non ricordo bene. Sì. Ma infatti la domanda che le volevo fare era questa. Dopo l'eccidio del pilastro, che lei sappia, Alberto, ha partecipato ad altre rapine? O ad altri fatti criminosi? Questa non sono sicura. Cioè, non posso dirlo con certezza. Qualche mese dopo l'eccidio del pilastro, Alberto si recò da voi a casa per ritirare qualcosa? Sì, una valigetta. Che cosa conteneva questa valigetta? Ma io... Io dentro di preciso non l'ho mai visto. So che lui la portò via e basta. Ecco, lei dentro di preciso non l'ha mai visto. Perché chi la preparò questa borsa? Non so se gliela diede Roberto, se la prese poi lui. Ecco, chi la preparò, chi la... So che era in casa nostra questa valigia, però come dico, se la prese poi giù lui, da dove era, non lo so, non ricordo. Sempre nel verbale. Io vidi uscire questa valigetta che la portava mio cognato e basta. Quindi vidi Alberto con questa valigetta. Sempre in quel verbale lei disse, la borsa era stata preparata da Roberto e quindi ne sconosco i contenuti. Sì, 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 più o meno, sì, penso da Roberto. Senta signora, suo marito le ha mai parlato dell'omicidio di un elettrauto, di una persona che svolgeva il lavoro di elettrauto? Adesso non ricordo di preciso, senta. Sempre nel verbale del 15 febbraio 95, reso alla Procura della Repubblica di Rimini, le dice, mio marito mi ha anche riferito di aver partecipato ad una rapina reale. Un'asseria reale. Ricorda adesso? Che cosa le disse Roberta? Che avevano fatto questa rapina reale, che avevano dovuto sparare a questo elettrauto, non so se era di fronte o di fianco. Però per quale motivo non mi ricordo, perché avevano dovuto, che era successo diciamo questa cosa. Ecco, questo elettrauto stava dicendo che era di fronte o di fianco a che cosa? A questo ufficio, che cos'era un ufficio postale, qualcosa del genere, non so, non mi ricordo. Allora lei dice, mio marito mi ha anche riferito di aver partecipato ad una rapina a reale, in cui venne ucciso un elettrauto che aveva la propria ufficina vicino alla banca. Sì, un'ecobanca, non ricordo cosa fosse. Signora, lei ci ha detto prima di aver visto i tre fratelli dividere il denaro in qualche occasione, di aver visto una volta dividere il denaro ai tre fratelli e a Marino Chiepinti. Le chiedo, lei vide mai Gugliotta dividere il denaro insieme ai fratelli Savi? Sì. Quante volte? Sì, però una volta senz'altro. Una volta senz'altro. Dove lo dividevano il denaro? In cucina. Nella cucina della vostra abitazione di via Signorini? Sì. Fabio, lascia mai delle armi presso la vostra abitazione di via Signorini? Sì. Erano all'interno di una borsa? Sì. Come fa a essere sicura che quelle erano le armi di Fabio? Lo sapevo da mio marito. Anche perché sentivo a volte Fabio dire, le lascio qui, quello sono sicuro. Prima io le ho chiesto, possiamo definire la casa di via Signorini una sorta di base operativa dalla quale si partiva di volta in volta quando c'erano da compiere queste rapine? Lei ha risposto affermativamente. Sì. Ora le chiedo, Roberto, come convocava, uso un termine un po' improprio forse, le altre persone? Si dava un appuntamento come? A volte si telefonavano, si trovavano in casa, si trovavano fuori. Secondo? Quindi la domanda è questa, più precisa. Lei ha mai sentito, Roberto, prendere appuntamento con altre persone dicendo ci vediamo domani a tal posto, a tal ora? E se sì, è riuscita mai a capire con chi prendeva questi appuntamenti? Sì, perché a volte sapevo che telefonava il suo fratello o così via. Ecco, aspetta, e così via. Che cosa si diceva con Fabio durante queste telefonate? Il contenuto delle telefonate che lei riuscì a percepire era il contenuto di due persone che prendevano un appuntamento? Sì. A volte diceva ci troviamo in tal posto, questo voglio far capire. Sì, sì, è questo che deve far capire, specificando anche l'ora dell'incontro. A volte poteva essere prestissimo, cioè alle sei, a volte poteva essere alle nove, secondo l'orario. Penultima domanda. Lei prima ci ha detto di aver visto una parrucca o aver visto, sì, una parrucca ha detto. Sì. In casa di aver visto Roberto indossare questa parrucca. Sì. Le chiedo, lei vide anche Fabio indossare una parrucca? Sì. Sempre in casa vostra, in via signorini? Sì. E ciò accadde prima di una rapina? Sì, sì, sì. Non so se era una prova che faceva così, che si voleva far vedere, però sì. Grazie. Prego. Avvocato Maisano. Signora, torniamo alle minacce di suo marito. Lei era al corrente dei fatti che suo marito le diceva. e ha riferito di una frase, di una parola di suo marito, provaci a parlare, ecco, come a sottintendere una minaccia. Le chiedo. Su marito ha qualche volta esplicitato una minaccia nei suoi confronti, non solo a parole? Lui, uno o due volte mi puntò la pistola, lui diceva che scherzava, ma io questo non posso saperlo, se scherzava o no. Le puntò la pistola? Sì. E fece questo mettendolo in relazione, mettendo questo gesto in relazione alle cose che le aveva confidato, come per dire non parlare, se no ti succede questo? Lui me lo fece uno o due volte, non ricordo se era in relazione di queste cose, quando dicevo queste cose, ma me l'ha fatto diverse volte, due volte. Se no dice, in che occasioni? Perché? Per intimorirmi. Adesso io le chiedo come si sentiva lei, cioè... Lei può... No, no, un momento, un momento, scusate. Come si sentiva lei? Le chiedo. Lei ha realizzato che questa minaccia poteva essere reale, nel senso che, ecco, lei ha pensato se io denuncio mio marito questo mi ammazza? L'ha fatto questo pensiero? Certo. Beh, bene. Andiamo adesso all'esplosivo preparato in casa, attraverso il disservante. Quante volte lei ha avuto modo di constatare direttamente questa operazione di... Diverse volte. Diverse volte. Una domanda sulla sera del 4 gennaio 91, lei dice, lei ha detto che i fratelli rimasero a dormire in una situazione che possiamo definire tranquillamente di fortuna, cioè adagiati in cucina con del... Sì. Fu la prima e unica volta o altre volte i fratelli Fabio e Alberto dormirono in questa situazione di fortuna a casa sua? La prima e l'ultima volta. La prima e l'ultima volta, 4 gennaio 91. Oh. Via Gorki. Cosa le dice il suo marito in relazione a Via Gorki? Se lo ricordo. Innanzitutto, lei ricollega Via Gorki a un qualche racconto di suo marito in ordine alla sua attività parallela, che non fosse quella del poliziotto. L'avvocato vuole dire anche il nome della vittima? Di? Io adesso non ricordo, senta, di cosa ne so tante che non posso ricordarmi di preciso. Sì, la coppia di Via Gorki, mi dicono. Però se lei non ha un ricordo preciso, non vado avanti. Per questo le chiedevo. Lei ha memoria... Non mi ricordo di preciso. Non ha memoria precisa di questo. Indichi il nome della vittima, può essere che questo... No, no, io stavo ancora sulla rapina, Presidente. Via Gorki. Però se vuole, possiamo già parlare. Le fu mai detto che nel corso, se nel corso di una rapina rivendicata a lei da suo marito, fu ucciso un qualcuno che si trovava a passare casualmente... Adesso non ricordo di preciso. Adesso? Non ricordo in questo momento di preciso. Non esclude di aver sentito... Via Gorki non mi è nuovo di averlo sentito. Però io non... In questo momento non ricordo. È un momento. Questo voglio dire. Allora, Via Gorki non l'è nuovo, ma lei lo mette in relazione a quanto saputo da suo marito, comunque, per questo genere di attività. In questo genere di rapine, sì. Per questo genere... Eh, basta, la ringrazio. Signora, fa gli episodi che lei ha citato. Ha citato la meria di Via Volturno. No, non ho capito, scusa. Di via citato Via Volturno, sì, questo è andato, sì. Può riferirci esattamente, nei limiti dei suoi ricordi, che cosa suo marito ebbe raccontarle a proposito di questo episodio? Non mi ricordo. Non mi ricordo nel senso che, come dico, mio marito queste cose le guardava in tv, quello che succedeva o non succedeva, o sul giornale le... Signora, io le devo ricordare che, in anzi alla corte d'assise di Rimini, a proposito di questo episodio, lei disse che suo marito le aveva riferito che era stata uccisa la proprietaria e quello che era successo nella meria. Quindi qualche cosa, forse, di più di quello che lei adesso mi stava rispondendo? Senta, io in questo momento non ricordo. Come? In questo momento non ricordo. Neanche che era stata uccisa la proprietaria? Sì, anche perché ne parlarono tutti i giornali, ne parlava alla tv, e dico in questo momento non... che era stato ucciso, sì, sapevo che ero stati loro. Ma l'episodio le fu raccontato esattamente da suo marito, a parte i giornali. Sì, sì. E le fu riferito che era stata uccisa la proprietaria, da lui. Le fu riferito anche chi era presente di loro o della banda che avevano? Lui lo so, altri non mi ricordo, se c'era poi Fabio o no. No, io non lo ricordo. Cioè soltanto, soltanto... Se ci fosse solo mio marito non ricordo, dico se ci fosse solo lui o anche suo fratello. Questo non lo so di preciso. Mi sembrava appunto che avesse esedito Fabio... E se l'ha detto, perché glielo richiede? Eh, voglio dire, scusa, insomma, hai sentito su cose che sinceramente... No, a me interessavano queste ulteriori... questi ulteriori elementi ai quali lei ha fatto cenno davanti alla corte d'assise di Rimini... Sì. Che lo mio ne ha fatto raccontare... Ha detto non me lo ricordo, ha detto non me lo ricordo. Non lo ricorda. Sì, ma adesso tornando, scusi, signora, siccome lei poco fa, rispondendo alle domande del pubblico ministero... Sì. Ha detto che sapeva chi era stato presente... Sì. All'armeria. Sì. Ecco, che cosa può dire su questo? Sì, come le ho detto, mio marito, questi fatti li seguivo poi in tv e io le cose a volte o le imparavo un attimo prima o le imparavo dal giornale, ma sapevo che erano stati loro, anche perché... Ecco, su questo, prima detto, io so che vi hanno partecipato Roberto e Fabio, d'accordo? Ha detto così, adesso ha detto così, io so che ha partecipato Roberto, ma Fabio non so se vi abbia partecipato. Senta, a volte... Cerchi però allora di fare uno sforzo per dire se è giusto il ricordo precedente o il ricordo successivo. Signor Presidente, mi prego... Senti, no. Mi prego senza. A me sembra che ci fosse anche il suo fratello, però... Perché mi sembra, perché dice così? Perché di solito non succedeva mai da solo, e questo voglio dire, non faceva mai qualcosa da solo. Ecco questo. Però direttamente lei non riesce a... A volte a me sembra di essere sicura in un modo e poi a volte in un altro, però più di tanto non... Faccio una contestazione sul punto. Nel verbale 5 gennaio 95, in relazione all'armeria, lei signora disse, lui mi raccontò di avere partecipato alla rapina dell'armeria insieme a Fabio. Quando l'ha detto questo? 5 gennaio 95. Lei il 5 gennaio 95 ha affermato che la presenza di Fabio le fu riferita da suo marito. Vuol dire che al momento è sicura così. Vuol dire che... Infatti sono tanti, anche io a volte mi posso confondere... Presidente, mi perdoni, ma la contestazione del pubblico ministero mi sembrava irrituale. Cioè, non stava interrogando il signor pubblico ministero. Sì, ma è un test del pubblico ministero questo qui, ha capito? Allora... Lo recupero dopo, d'accordo. Prego. Per l'economia processuale l'ho fatto sotto. Prego. Luca Moser, parte civile. Signora, per cortesia, ricorda se quando suo marito con gli altri membri della banda si trovavano in casa per dividere il bottino, questo veniva distribuito in parti uguali? Sì, che sappia io, sì. Più o meno in parti uguali, almeno. Un'altra domanda in relazione ad un episodio che ci hai raccontato prima. Ricorda quale fu l'episodio scatenante di questo periodo di stress di Marino Occhipinti? Già ha detto quello che doveva dire su questo. Già l'ha detto. Già è stata sentita in maniera molto dettagliata su questo. È inutile tornare sulle cose. Siccome in data 6 febbraio 1995 la signora aveva fatto una precisazione, allora procederei a una contestazione. Non c'è opposizione perché non c'è mai stata contestazione che io ricordi. Allora faccia la domanda su questo particolare. Ricorda se suo marito, quando lei, dopo aver parlato con la signora Occhipinti, le chiese spiegazioni di questo periodo di preoccupazione di Marino Occhipinti, le disse che era rimasto sconvolto perché nel corso di una rapina era rimasta uccisa a una guardia, giurata. Lei che cosa ha fatto? Non ha fatto la domanda. Ha proceduto direttamente alla lettura del verbale. Io ho fatto una domanda. Lei non ha fatto una domanda. Allora. Io ho chiesto se la signora ricorda che parlando con suo marito Roberto, questi, le ebbe a riferire del motivo per il quale Marino Occhipinti, a seguito dell'episodio di Casalecchio, rimase sconvolto. Ecco, questo, diciamo, ha afferrato la domanda. Grosso modo. Cioè, vorrebbe sapere. Allora, rispecifico la domanda. Suo marito Roberto... Non riesco a sentire bene, per quello. Non riesco a sentire bene. Prego. Suo marito Roberto le riferì che nel corso di una rapina a Casalecchio, nel corso della quale aveva partecipato anche Marino... No, non puoi fare la domanda con l'altra domanda. Vada più indietro. Suo marito... Lei, signora... Lei, signora... Ha saputo che Marino Occhipinti ha partecipato ad una rapina a Casalecchio? Sì. Suo marito Roberto le ha detto che in quella rapina a Casalecchio morì una guardia giurata? Sì. Suo marito Roberto le disse che questo era il motivo per il quale Occhipinti rimase sconvolto dal fatto? Sì. La ringrazio. E l'ultima domanda è questa. Ci può dire, per cortesia, dove suo marito, se lo sa, aveva imparato a confezionare artigianalmente dell'esplosivo? No. Dove le abbia imparato questo non lo so io. Cioè, so che lui lo faceva, preparava queste cose, però dove abbia imparato non lo so. La ringrazio. Dalla SEM parte civile una unica domanda. Signora Ceccarelli, prima lei ha fatto riferimento all'episodio accaduto all'ufficio postale di via Mazzini qui a Bologna. Lei ricorda se, in riferimento a quel fatto, avvenne il confezionamento dell'esplosivo in casa vostra? Sì. Sì, ogni tanto lui lo preparava. Questo mi ricordo che... Ma collega precisamente... No. No, no. Però so che usarono dell'esplosivo. Signora, mi ricordi di parlare nel microfono? Ah, mi scusi. Sì. Domande? Avvocato De Girolamo, signora Ceccarelli, lei si ricorda se venne sentita il 25 novembre 1994, quindi a pochi giorni dall'arresto di suo marito? Io adesso non mi ricordo la data perché fui sentita diverse volte, però le date non posso ricordarle. Venne sentita dal pubblico ministero, dottor Spinosa? Sì. Pochi giorni dopo l'arresto di suo marito, signora? No, 25 aprile. No, 25 novembre. Novembre. Ah, novembre? Sì. Si ricorda se in quell'occasione le vennero fatte delle domande riguardanti la famosa sera del 4 gennaio 91? Adesso non ricordo le cose che mi chiese. Adesso non mi ricordo le cose che mi chiese quella sera. So come mi fecero delle domande, questo si spinosa. Anche sulla ferita? Sì. Si ricorda lei cosa rispose? Io mi ricordo che, almeno se così non sbaglio, che era ferito, però non dissi le cose che veramente sapevo, insomma. Le devo contestare che lei disse al dottor Spinosa, non ricordo cosa feci la sera del 4 gennaio 91? No, perché glielo contesta? Lei ha parlato della ferita. Adesso vengo anche alla ferita, presidente. Sì, come ho detto, non dissi tutta la verità apposta, l'ho appena detto. Si ricorda che cosa ebbe a dire di questa ferita? No, un momento. Quindi lei non disse la verità il 25 novembre? No, tutta la verità no. Sempre al microfono, sempre al microfono. Non c'è bisogno. Si ricorda che cosa ricollegò la ferita? Si ricorda? A che cosa ricollegò la ferita? No, adesso non ricordo. A un mal di schiena? A una caduta dalla moto? Sì, 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 a un mal di schiena, credo più. La ferita allo stomaco? Sì. A un mal di schiena? Beh, insomma... Così, ma lo sappiamo noi. Quindi lei non disse la verità il giorno 25 novembre? No. Da quando ha incominciato, se si ricorda, a raccontare la verità ai magistrati che la stavano interrogando? Allora, intanto quando parlai con Giovannini, disse delle cose, poi quando fui sentita da Paci... Quindi il 5 gennaio lei, sentita per la prima volta da Dottor Giovannini, incomincia a raccontare le cose? Sì, sì. Quindi, quando lei venne sentita il 15 febbraio del 1995 da Dottor Paci, lei diceva la verità? Sì. Ho continuato a dire più o meno quello che sapevo. Ecco, lei prima ha riferito che il suo marito le riferì di aver commesso un episodio delituoso in un campo nomadi. Sì. Allora, lei prima mi ha detto che dal 5 gennaio lei incomincia a dire la verità. Le devo contestare allora che nel verbale 15 febbraio 1995 lei disse, a proposito degli zingari, mio marito ha sempre detestato gli zingari, ma non mi ha mai riferito di aver fatto fuoco sui campi nomadi a Bologna. Diceva la verità qui? No, io lo sapevo. Quindi anche... Lo sapevo che lui... Quindi anche... Cosa sapeva, signora? Che aveva partecipato a questo assalto ai campi nomadi. Purtroppo io a volte sono stata terrorizzata, cioè nessuno mi ha minacciato a roba così, però a volte non riuscivo a dire tutto quel che avrei dovuto dire, insomma. È questo che voglio dire. Anche se voi forse non riuscite a capirle, certo. Quindi anche... Insomma, io lo sapevo, è che questa è la verità. Lo sapeva ma non l'aveva detto allora all'autor Paolo. Non ho detto sempre la verità, purtroppo. Lo sapeva perché gliel'aveva detto suo verito o lo sapeva? Sì, sì. Allora fa lui dopo. Prego. Un'ultima domanda. Nell'ultimo periodo, poco prima che suo marito venisse arrestato, c'erano tra di voi dei disaccordi, dei dissapori? Sì. Suo marito si era allontanato dall'abitazione, lei prima ha riferito alla corte. Sì. Si ricorda quando suo marito ebbe a riferirle di quello che a suo dire è stato l'ultimo episodio delittuoso commesso dallo stesso? Quando successe poi alla Banca Nazionale. Quindi siamo gli ultimi giorni del mese di ottobre? Sì. Nonostante questi dissapori suo marito continuava a confidarle quelle che erano le sue azioni delittuose? C'era quindi una grande intesa tra di voi nonostante lui fosse addirittura in procinto di allontanarsi da casa? Senta avvocato, io le cose le sapevo, è inutile che ci giriamo attorno, io sapevo quello che succedeva. Mio marito ha voluto fare i suoi comodi in casa mia, in casa anche sua e adesso... Signora, gli ha chiesto come mai? Come mai? Se c'erano dei dissapori... Io lo sapevo, insomma. Ecco, lo sapeva perché suo marito ha continuato a riferirle queste cose, lo sapeva perché vedeva che preparava, lo sapeva perché tornava, lo sapeva perché ha immaginato, capito? Sì. Questa è la domanda. Sì. Innanzitutto, c'erano oramai dei rapporti tesi con suo marito? Sì, c'erano però queste cose io le imparavo ugualmente. In che modo le imparava? Perché purtroppo quando vedevo uscire mio marito con delle borse o qualcosa del genere, sapevo che qualcosa succedeva. Ma ha parlato di questo episodio, che poi è l'episodio del triplice tentato... 21 ottobre 1994. Sì, di quella della Banca Nazionale. Sì. Cioè, scusami. Cioè, suo marito continuava a parlare con lei oppure non parlavate più? No, questa cosa sì, la imparai, la imparai da lui, sì. Da lui? Sì. Grazie. Signora, sull'avvocato piccolo, difensore di Albertusare, devo fare alcune domande per favore. Lei è separata? Sì. Quando si è separata? Separata dopo che mio marito è stato arrestato. Cioè dopo può precisare cosa vuol dire dopo? Più o meno? Non ricordo, se cinque o sei mesi di preciso, non ricordo. Dopo l'arresto? Dopo l'arresto. Consensualmente o giudizialmente? Consensualmente, sì, da ambre le parti, insomma. Posso spiegare perché? Sì. Perché vi siete separati? C'è un motivo particolare? Io ho chiesto la separazione e la cosa è stata avvenuta consensualmente. Certo, non volevo capire se c'era un perché, cioè un... Vi siete accordati oppure... Ci siamo accordati. Cioè io ho chiesto la separazione... Ci sarà stato un motivo, dico, perché lei si è separata? Per tutte le cose insieme, insomma, per tutte le cose che sono successe. Senta, lei conosce Fabio Sabe, vero? Sì. Sa se Fabio è separato? Sì. Da quando? Da prima ancora che fosse arrestato, però da quanto tempo prima non ricordo di preciso. Sa perché? Sai i motivi per cui si separò? So che non andava molto d'accordo con sua moglie, almeno così. Se non sa perché non andava d'accordo? Io adesso di preciso non lo so, voglio dire... Cioè andavano d'accordo o meno, ecco? No, no, non andavano d'accordo, però i motivi proprio, lei la pensava in un modo, lui la pensava in un altro e si sono divisi, non andavano più d'accordo. Alberto Savi è separato? Mi sembra di sì, almeno che si sia separato dopo l'arresto. Come l'ha saputo? Dai giornali. Che Alberto Savi si è separato? Mi sembra così da avere imparato dai giornali, da averla preso dalla TV, dai giornali, qualcosa del genere. L'ha mai saputo questo della Bollini? Sa chi è Bollini? Antonella? No, questo non l'ho mai operato personalmente. Conosci Bollini e Antonella? Certo. Da quanto tempo non la sente? Da parecchio. Quindi lei ha preso dai giornali che Alberto Savi, Bollini e Antonella sono separati? Sì, sì. Non mi risulta, ecco perché i giornali... No, 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 no. Senta, allora tu sui giornali so che almeno... Senta, devi cambiare la stampa, devi comprare altri giornali. Forse ho sbagliato io, allora so che... Qualcuno me l'avrà detto, senti. Ha mai fatto investimenti in titoli bancari? Cioè io? Sì. Investimenti in titoli bancari, sì. Quali? Ma non con mio marito. Cosa? Non con mio marito. Ci può dire quali e quando? In un conto che abbiamo io e mio fratello. Dove? Nelle Marche. Roberto sapeva dell'operazione bancaria presso la Cassa di Imola? Cassa di Imola? No, non credo che lo sapesse lui. Senta, lei ha detto prima che ha visto le parrucche in casa. Sì. Si può dire cortesemente che tipo di parrucche, il colore per esempio? I capelli castani, cioè il colore castano. Quanti ne ha viste, ha detto? Una, una di mio marito. Il tipo, cioè... Sì, castano, capelli corti, così. Corti. Sì. Lei conosce la signora Angelini Maria Grazia? Sì. Lei, poco fa, parlando della separazione di Fabio, disse che non andavano d'accordo. Lei è a conoscenza di quando avvenne la svolta in questi rapporti fra Fabio e l'Angelini Maria Grazia? Io non ricordo la data, non ricordo il periodo. Il motivo che ha scatenato? Già da patto questa domanda. Sì, ho chiesto se c'è una... L'ha già fatta, quindi mettiamola da parte. Che le consta, Fabio ha mai portato gli occhiali? Sì. Lenti a contatto? Sì. Le sopportava? Non sempre. Lenti a contatto. Per io, devi sapere, quando? No. Io so che ci fu un periodo che lui portava le lette a contatto, però... Più o meno, se riesce a collocarle nel tempo. No, non ricordo, non ricordo. Conosce Gugliotta? Sì. Frequentava la casa dei Savi, Gugliotta? Sì. Quale casa dei Savi? Vabbè, la casa dei Savi o... Non esiste la casa dei Savi. Savi, voglio dire, fratelli, insomma. Cioè, la casa di chi? Io so che presentavo la mia casa. Scusa, Presidente, se qui in aula c'è un po' di silenzio. La casa di Roberto Savi. Sì, di Roberto. Sì, insomma, ho detto anche prima. Sì, già l'ha detto, già l'ha detto. L'epoca? L'epoca prima dei Carabinieri, l'epoca verso il periodo delle Cop, più o meno. Lei sa se è mai frequentato, mai stato a casa di Fabio Savi? Se Gugliotta è mai stato a casa di Fabio Savi? Oddio, di preciso o non lo so, di preciso. Casa di Alberto Savi? Penso proprio di no, no, no. Non mi sembra, però questa è una cosa che non posso rispondere. Senta, prima le è stata fatta una domanda sulle modalità, come si incontravano le persone. Sì. Non ho capito, vorrei una precisione maggiore. C'era, si ritrovavano per un appuntamento telefonico, c'era uno specifico appuntamento, con quali erano i particolari? A volte si mettevano d'accordo di trovarsi in un tal punto, in un tal orario, oppure in casa, secondo? Sì, lo so, ma si telefonavano, avevano un appuntamento preciso, preventivo. Presidente, perdoni, ma io non vorrei adesso turbare, però a questo punto io devo richiamare l'attenzione della Corte, perché se anche a interrogare il difensore, che certamente ha tutti i suoi diritti, le sue facoltà, non può rifare delle domande. No, ci dica se fa opposizione. Faccio opposizione a che si riformulino le stesse domande. Ma adesso ho fatto una domanda che non era stata mai formulata. E se non è stato attento, starà attento la prossima volta, ma non può essere un escamotage per fare cento volte le stesse domande. Il collega starà attento quando si fa un'attesa. Io cercherò di stare attenzione. Comunque la domanda è stata ammessa. Cercherò di stare più attenzione. Signora, si ricorda come entravano in contatto, suo marito, con i fratelli? Sì, si telefonavano e si davano certi appuntamenti, domagina ci ritroviamo. Sempre telefonicamente volevo dire, veniva sempre per te qua. Senta, io non lo so se lui... Senta, lei conosceva Micola, signora. Sì. Sa dirci di che nazionalità è? Sa dirci? Sa dirci? Ungherese? Se cortesemente... A noi qui non arrivano le voci... No, 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 lei, presidente, per carità. Allora, non arrivano. No, sto chiedendo che i colleghi, per favore, non che sia un escamotaggio continuo. Cioè, si crea soltanto confusione. Si crea solo confusione. Si è un escamotaggio. Io quando parlano... Ah, adesso li escamotaggio. L'ha detto prima, però, avvocato, qui. Se infatti noi non abbiamo aperto... No, dico, non vorrei che sia una strategia. Io quando hanno parlato... Ecco, ma è già la terza volta per opposizione. Ci dicono che sono... D'accordo, d'accordo. Vabbè, l'opposizione è una cosa assolutamente illegittima. Non sull'opposizione. Si ha pure infondata e legittima. Per consiglio, non vi parlate tra di voi, non vi suggerite frasi, abbiate pazienza. Giusto per la cara. Ma anche, diciamo... Senti, io non sto parlando, io sto parlando con te. Allora, non raccolga. Prego. Ha detto sulla nazionalità... Ungherese? Mi sembra, romeno, ungherese. Le risulta se scappo mai da Fabio? Sì, sì. Ehi, grazie, signora, nel microfono. In che modo, signora? Perché era stata picchiata, andò via consensualmente. Com'era quando andò via? Perché andò via? Io non l'ho mai vista, a dire la verità. Cioè, so che mi era stato detto così, che era andata via... Di preciso per il motivo, non lo so. Ritorno da Fabio Savi? Come? Ritorno da Fabio Savi? Sì. Signora, nel microfono. Ah, mi scusi, mi scusi. Si rivolga alla Puglia, solo che... Si rivolga alla Puglia. Ecco. Sì. Sì, poi tornò in Italia. Prima andò via, poi dopo... Almeno così, so che... Lei si stette molto nel voler tornare, e Fabio l'ha ripresa insomma. Quindi fu lei che volle tornare? Io almeno così so. Sa quando si rifugio, dove si rifugio? Dove andò via? Si rifugio... Allora, una volta so che scappò per un giorno e si rifugio a Bologna. in un albergo di Bologna. Poi telefono a Fabio che l'andasse a prendere così. Si può ricordare quando venne in Italia per la prima volta? Mi sembra nel 93, se non ricordo male. Nel... Mi sembra, se non ricordo male, nel 93. Mi sembra, però io posso ricordarmi di preciso. Se le risulta o meno, se avesse paura di essere espulsa, in quanto sprovvista di passaporto? Si, so che lei non era in regola, questo me lo disse anche lei. Però... Non mi disse mai ho paura di essere espulsa, questo non... Senta, Roberto aveva mai avuto una motocicletta? Come? Una motocicletta? Ebbe lui... Diverse moto, questo sì, moto. Stato in possesso di una moto? Senta... Diverse moto. Di quale tipo? Abbastanza di cilindrata, abbastanza grossa, insomma abbastanza... Adesso non ricordo bene quale, ma abbastanza... Questa è la cilindrata, il tipo lo sa? Sa la marca? Non mi ricordo... Il colore? Mi ho dato mai caso. Il colore, mai a vederla? Azzurra, mi sembra, bianca e azzurra. A volte non so se bianca e rossa, adesso non ricordo bene. Ne ebbe solo uno o più di una, signora? Ho detto diverse. Diverse. Sa se è mai caduto dalla moto? Uno o due volte. E se sì, quando e dove? Sì, due volte mi sembra. Si può dire quando e dove? Senta, io... Questo non ricordo dov'è che cade. So che cade due volte, la moto si rovinò, anche lui si fece male che dovete andare al pronto soccorso. Questo sì. Riportò delle lesioni? Sì. Che tipo di lesioni riportò, signora? Delle abrasioni, mi sembra una gamba, una volta al braccio, se non ricordo male. Sì. Così almeno... Delle piccole ferite, insomma, piccole... Sì, no, rotture, no, così però delle... Ebbe mai ricoveri per questo fatto? Ebbe mai? Ricoveri. Avvocato, perché sta insistendo tanto su questo particolare così insignificante? Presidente, la testa non ha detto, io avrei voluto sapere, l'epoca in cui si era fatto male. Io le date... Perché, se vuole, lo posso anche dire, perché pare che fosse a ridosso del momento in cui fu arrestato. No, questo è successo... Del novembre? Sì, lei ricorda, infatti non me l'ha detto. No, 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 no. E allora... No, scusi, eh? E allora? A ridosso del novembre del 94. Ha detto che due volte abbia accaduto. No, ha detto di no. Sa se si fece male o si cadde nel novembre del 94? Nel luglio, lui si fece male nel luglio, quello sì, perché ero via un giorno il 16 luglio... 94, signora? Sì. Anche il novembre del 94? Sì. 16 luglio del 94, se non ricordo male, quella volta lì, lui si fece male. Io ero via e lui si fece male in moto. Ha mai visto i referti, lei, signora? Sì. Mi sembra proprio che siano in casa i referti, se non sbaglio. Almeno io non ho buttato via niente di quel genere, dovrebbe essere in casa. Ma è qui no, ha detto no. Se lui li ha lasciati in casa, i referti ci sono. Per queste lesioni si curò anche in casa, signora? No, lui si fece curare a pronto soccorso, ho detto. Senta, di Alberto Savi, lei sa se era proprietario di un'autovettura? Diverse autovetture è stata. Sempre il suo marito. Sempre il suo marito. Ah, Alberto, sì, anche Alberto. Sì. Ma fino adesso abbiamo parlato di Roberto, è così? Sì, sì, sì. Adesso cambiamo? No, non l'abbiamo capitola, signora. Alberto, siamo passati ad Alberto. Ad Alberto. Alberto vi ha molti macchini. Molte, io adesso quante ne cambiavo, sa che è una regata, poi una macchina bianca, una... Io di cilindrata, io di macchine e di moto non è che me ne intenda. Ma di che cilindrata potevano essere, signora? Eh? Di grosso o meno. Al Prat risulta tutto, si toglie tutte le curiosità al Prat. Eh, volevo sapere della signora. Ma che ne sa la signora quante macchine aveva Alberto? Allora ce lo dica, non lo so. No, ma scusate. Ma poi che rilevanza ha le macchine, la signora ci dica quante macchine aveva Alberto? Io senta, non so, di macchine non mi capisco. Perché io volevo capire anche le condizioni economiche in cui versava questo... Alberto, il suo cliente. Eh, va bene, ci vogliono, ci vogliono, non lo può sapere da lei, non lo può sapere da lei. Presidente, voleva arrivare al punto per spiegare, se aveva molta disponibilità di soldi, aveva la possibilità di cambiare spesso macchine, di che tipo di macchine. Eh, va bene, al Prat risulta tutto. Il grado di liquidità economica. Eh, va bene, risulta tutto documentalmente, se ha questo interesse lo accerti al Prat, prego. Se non dovesse risultare, non ho detto che risulti tutto, sempre. Va bene, al Prat, o lei, o lui, o la moglie, o il marito. Non vuol dire che possa per forza risultare tutto, potrebbe anche non essere risultare tutto. Eh, Alberto cambiò diverse volte la macchina, l'ha regata, una macchina bianca e poi non mi ricordo se qualcosa... Mostrava forte disponibilità di danaro. Ecco, questa è la domanda, ha mai visto... Eh, no, questo bruciavamo direttamente... Prodromica, perché ho detto, ha mai visto... Senta, cambiò diverse volte la macchina. No, sì, d'accordo, mostrava di avere disponibilità di danaro, faceva delle spese abbastanza inutili. Non lo so di preciso, io quello delle macchine l'ho vista, l'ho vista, insomma, con i miei occhi che le cambiasse. Sì, ma macchine invece ci ha detto una regata, poi ci ha detto... Sì, sì, una regata e poi un'altra macchina bianca, successivamente... Ma macchine grandi, di grande cilindrata? No, la macchina, anche come dico, io di macchine non me ne intendo, perciò non posso dire una macchina grossissima... Ma con le grandi, signore, non lo so di... Vabbè. Senta, al momento della perquisizione, dell'arresto di Roberto Sari, di suo marito, si fu trovata una valigetta, fu rinvenuta nella stanza da lettera. Ci può dire da quanto tempo stava lì questa valigetta? È stata già fatta la domanda, avvocato. Senta, lei sa di una rapina alle poste di Via Mazzini? C'è opposizione? Ha già risposto. Aspetta, non ha posto ancora la domanda. Via Mazzini, lei ha già reso delle dichiarazioni su Via Mazzini? Sì. Rapina alle poste, esplosivo e così via. Sì. Qual è la domanda? Sì, io l'ho già detto sì. Sì, già detto prima, d'accordo, adesso forse vuole porre una domanda. Prima dell'esecuzione di questa rapina, a casa sua si riunì qualcuno. Opposizione già risposta. Questo l'ha detto, già l'ha detto questo. No, 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 è la fase di programmazione, allora solo devo fare delle contestazioni. Sì, ha detto già questo. Ha fatto anche i nomi dei presenti. Sì, sì, ha riterito che vi era stata una programmazione e lei sulla base di questa programmazione aveva inteso che loro fossero gli autori di quel punto. Allora gliela ripropongo, eventualmente faccio la contestazione. Ah, d'accordo. Lei in un verbale ha detto che questa rapina le fu detta... Non parli del verbale, ti faccio la... No, non è il verbale, sono i miei fogli questi. Ah, finissimi. Disse che Roberto evide parlarne con Fabio e con Gugliotta. Sì. E forse con un'altra persona. Sì. Poi successivamente a domanda della pubblica accusa ha parlato anche di Alberto Sari. Può essere più precisa e soprattutto nella fase di programmazione, quindi a casa sua dove fu programmata, da quanto ho sentito da lei, se chi dei quattro o se erano solo in tre che si riunirono? Senta, io per quello non sono sicura, però mi ricordo che parlarono di questa... A casa sua chi si riunì, insomma, in quanti erano chi si riunirono? Tre sicure, tre o quattro, adesso non ricordo di preciso. Chi sarebbero questi tre? Gugliotta, mio marito e Fabio e non so, sì, non ricordo bene se c'era poi Alberto o no, se ci fosse o no. Senta, la sera del pilastro, chi vide tornare a casa lei? Posizione. Non ho già fatto la domanda, voca. Senta, quanto è grande la sua casa? Allora, ho posizione, ho già risposto. Senta, io ho già detto 20 volte. Senta, è tenuto che vi incavorate. No, 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 Presidente, vuole il rispetto anche della forma in Corte d'Assetto. Avvocato Piccolo, non so, io i venti, non trascendiamo. E allora che stiamo... Sì, allora senza dire parole che non sono consone al ruolo e alla funzione che sta svolgendo Avvocato, ha capito? Sempre con Garbo... Sì, sono d'accordo, Presidente, però io le ho fatte parlare tranquillamente sulla metodologia. Sì, loro esercitano il loro diritto, che è quello di opporsi. E consenta di esercitare il diritto. Allora, lo dicano, i metodi parli hanno parlato, lo posso dire anche in modo più tranquillo, più pacifico, senza chi schizzano con questa... Senza aggressività. Presidente, io non rispondo personalmente perché non voglio intralciare neanche di un secondo il lavoro della Corte, ma potrei anche replicare perché non è in modo di stare in Corte d'Assise. Andiamo avanti. Non merita commenti quello che è stato detto, Presidente. Prima dice che non vuole creare, poi creano. Allora andiamo avanti. Ha parlato che è una casa piccola, non ha detto i metri quadrati. Ma cosa cambierebbe, Presidente, se dovesse ripetere, qual è la gravità, non capisco. Va bene, conosce la verità sui metri quadrati. Anche sempre. Signora, conosce i metri quadrati, quanti metri quadrati? 45, è un mini appartamento, perciò più o meno sarà un 45. Non capisco, quindi è un mini apposizione, perché si smuovono troppo i colleghi. Sì, è una cosa che io ho già detto diverse volte prima, la mia casa, in che posizione è messa? Senta signora, quanto è grande l'ingresso? Guardi, è piccolissimo l'ingresso. Piccolissimo. Piccolissimo, sarà tutto in miniatura. Ci si starà 5 o 6 persone in piedi, tanto per dire, per spiegare. Dove si riunivano le persone del gruppo? In cucina. Senta signora, lei ha mai lavorato? Sempre. Io dai 15 anni che lavoro. Che tipo di lavoro svolge? Ho svolto la commessa, adesso faccio la collaboratrice domestica. Senta, lei ha dei figli? Uno. Roberto, Savi? Sì, ho un figlio. Come si chiama il suo figlio? Si chiama Savi Simone. Quanti anni ha? 12. Quanti anni aveva al 4 gennaio 91? Avvocato, vi faccio più. Sette anni, è nato nell'84 il bimbo. Senta, dei fatti che ha riferito, Simone, suo figlio, ha mai visto qualcosa? È possibile appunto che in casa abbia avuto la possibilità di vedere qualcosa, per esempio le armi, le riunioni, queste telefonate che arrivavano? Senta, che abbia visto qualcuno senz'altro, che abbia sentito parlare al telefono. Ti interessano le armi? Se ha visto... Alle armi non penso almeno. O discutere di rapine? Non lo so, si abbia sentito, no, non credo almeno. E le armi erano nascoste o erano alla portata visiva del bambino? A volte veramente mio marito puliva le armi in cucina, così, avrà visto... Li deteniva legalmente? Ho chiesto se li vedevano, non mi ha detto qualcosa, perché se li ha visti. No, come sto specificando, mio marito alcune volte le puliva l'arma davanti a lui, o poteva essere un fucilo, o poteva essere una pistola... Sì, quindi, siccome è stata definita prima la base operativa via signorini 11... Da chi è stata definita? Base operativa, cioè... Ma non dalla testimone. No, no, è stata definita non dalla testa. No, appunto. Però ha detto che era il centro dove si svolgevano le riunioni. Si svolgeva. Loro io li sento di parlare. Ha detto che spesso vedeva queste persone. Quindi il bambino assisteva a queste riunioni? Era presente quando si svolgevano queste riunioni? Era presente qualche volta? Lo cacciavate via? Cosa faceva? No, come posso dire, quando avveniva praticamente a volte niente. Succedeva che eravamo a cena o qualcosa del genere. Il bambino era lì, però loro non parlavano di queste cose davanti al bambino. Loro non parlavano, certo, di rapine davanti al bambino. Quindi quando c'era il bambino le riunioni non si facevano. Ma non le riunioni non si parlavano. Lei dice che quando c'era il bambino il papà e i due zii non parlavano di rapine. Questo ha detto la testa. Certo, però ci sono anche momenti? Ci sono momenti e momenti. Ci sono momenti in cui, allora... Per quanto riguarda la domanda sua, la testa ha risposto ad apporre altre domande su questo punto. Io volevo chiarire questo punto. Siccome prima di che andassero si recassero ogni rapina, il gruppo potevano essere in due ma a volte potevano essere anche in più. Queste sono affermazioni sue. No, no, questa è la premessa. Ecco, faccia la domanda. Quando erano per esempio in quattro, che si recarono ai caselli, quindi con occhi pinti, valicelli, erano in quattro e partivano da casa sua. Quindi nel momento in cui si dava un appuntamento a casa sua, quindi non solo in due ma anche in più di due. Quindi era un gruppo, diciamo, di quattro persone, a volte non so quante. Il suo figlio era sempre presente, era anche lì. Ma secondo l'orario che partivano, secondo... Perché il suo figlio che faceva? Andava a scuola? Certo, il mio figlio è nato nell'84. A sette anni? Dopo ha iniziato, lui niente, ha iniziato a pochi mesi ad andare già all'asilo nido, perciò lui è sempre andato dalla mattina alla sera fino alle quattro e mezza. Quindi quando si svolgevano, cioè l'appuntamento che si davano a casa, il suo figlio era a casa. Ma non ha detto questo, lei non faccia delle conclusioni. Le ore erano diverse. Non faccia delle conclusioni che sono solo sue. Quando si incontrava... Quante volte glielo devo dire? Quando si incontravano a casa... Le conclusioni, le parole, leggendo le posizioni dei testimoni. Il gruppo, la banda, uno bianca, quando doveva partire per commettere un reato e si riuniva a casa sua, si dava appuntamento a casa sua. Suo figlio era presente. Ha detto a seconda degli orari. Ha detto prima. A seconda degli orari. Ha detto prima la signora che tutte le volte che partiva il gruppo da casa sua, la signora li vedeva partire e tornare. Quindi siccome li vedeva lei partire, Simone li vedeva partire pure, era lì. Ha detto a seconda degli orari. C'era anche mio figlio, certo, secondo l'orario, ho detto già. La sera del 4 gennaio 91, dove era Simone? Era in casa con me. La mattina? La mattina... La mattina del... 5. Ah, la mattina del 5 sì. Che cosa sì, signora? Sì, era a casa mio figlio, del 5 sì. Simone, vede tornare quella sera del 4 il padre e gli zii? Io non ricordo se mio figlio era già a letto in quel momento. Mi sembra che fosse già a letto, Simone. Quando tornarono. Che fosse già almeno così. La valigia che Alberto teneva a casa sua, dove la riponeva? E come ho già detto anche prima, alcune volte era sotto a letto, così mio marito decideva di fare così, di tenerlo sotto a letto a volte, a volte secondo sull'armadio, in cima all'armadio. Si è risposto, quindi non mi risponda a questa domanda. Sa cosa ci fosse all'interno di quella valigia, se c'erano soldi o armi, al momento in cui la ritirò? Se erano soldi, armi o soldi e armi? Quale valigia? Sì, quando la sera dell'arresto, sì, sapevo che c'erano soldi. Soldi? C'erano anche armi? Dentro quella valigetta? No, quella valigetta, se quello che mi chiedono, sapevo che c'era denaro. C'era denaro. Chiedo scusa, Presidente, scusi, Avvocato. Lei voleva sapere della valigia di Alberto o di Roberto? No, Alberto, Paolo. Perché la signora... Ah, di Alberto? No, io pensavo di Roberto, perché a volte mi salto da una parte all'altra. Di la valigia... No, siccome lei... Allora... No, io dentro la valigia di Alberto non l'ho mai visto. Cioè, vidi che lui la venne a prendere, se mai penso io cosa poteva essersi, però non l'ho visto mai dentro. Signora, mi può descrivere, se possibile, le varie occasioni che lei fu sentita in questura, in procura, davanti al tribunale, le corte, ebbe a rendere dichiarazioni in ordine a questi fatti. Lei in che stato d'animo era? Era serena, tranquilla? O era sconvolta, aveva paura? Come era? Senta, serena? Secondo lei uno può essere serena? Comunque ha già risposto anche su questo suo stato d'animo. Ritiene di aver fatto della confusione qualche volta in quest'animo? Sì, l'ho già detto anche prima. O ha detto tutto con precisione? No, è avvocato. Questa domanda la può pubblicare. Un esprude l'altro, va bene. Non c'è bisogno né di ridere né di gridare. No, no, se lei fa una domanda che è in contrasto con la risposta precedente, qualcuno è mosso dal... Prego, da commenti poco favorevoli. Prego. Per cortesia, però non diamo luogo. Prego, avvocato. Lei sui giornali, ha mai letto sui giornali la gesta dell'Uno Bianca? L'ha mai seguita per i giornali? Sì, anche questa l'ho già detto. Si può descrivere cortesemente i mobili di casa sua, come era arredata? No, no, perché? Scusi, a quale scopo? Eh? A quale scopo? Per quello che dirò dopo. Ponga prima la domanda successiva, sei rilevante e faccio la contina. Senta. Prego. Guardi, posso dire una cosa? Se vuol venire a vedere casa mia, lei è sempre aperta. Se vuol venire a controllare di che materiale è... Io spero che faccio sopra luogo la corte. Signora. Signora. No, scusi. No, no. Se mi scusi, ma... No, prego, 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 no. Non ci preoccupi, non ci preoccupi, non ha nulla, diciamo, di cui preoccuparsi. Allora, questa domanda non è amminista, vada avanti. Senta, Simone dove dormiva? No, non è amminista questa domanda, vada avanti. Dove dormiva il figlio? In camera con noi. C'è una parte del pubblico ministero. Posso spiegare il motivo? Per cui, certo. Signora dormiva con voi il bambino? Sì, a volte sì, a volte nel suo lettino, ma in camera nostra, avendo camera e cucina... Capito? Sono 45 petri quadri, c'è un piccolo ingresso, una cucina abbastanza grande dove dormivano a terra i fratelli, e poi una camera da letto con un letto matrimoniale. Il bambino a volte dormiva con loro e a volte... Quindi quella sera dormi... No, quindi non deve mai dire quindi, deve chiedere, deve chiedere... Quella sera, allora, quella notte del 4 e 5, dove dormi, Simone? Sì, mi sembra dormire con me, almeno se non ricordo male, con me e mio marito se non ricordo male. O nel suo lettino, adesso non ricordo. Non ricordo, se non ricordo dice non ricordo. Comunque nella camera vostra, necessariamente lì. Senta, quando Roberto e il socio andavano a commettere reate, sempre l'avvisavano e sempre... Scusi, ma questa è un'affermazione sua, questa qui. No, chiedo. Lei ponga le domande. Ho detto, quando Roberto andava a... No, lo dà come un fatto, ha capito. Qua stiamo per valutare tutto questo, scusi. Ponga la domanda. Ho detto, sempre... Quando Roberto e il socio andavano a commettere reate, sempre l'avvisavano prima o se ne accorgeva dopo e sempre al rientro? Sì, a volte me ne accorgevo certo dopo. Ma voglio dire, sempre. Ma lei che lui sempre... Era tassativo. Ma certo, io però mi accorgevo quando usciva lui con le armi o quelle cose, per forza. Senta, ritiene che tutte le volte che Roberto o gli altri... le raccontavano sempre la verità. L'opposizione da parte del Presidente... Una valutazione. Ne fate tante voi, signori. Ma si astenga dai commenti, Presidente. Grazie. Presidente... Non dovrei far passare una domanda a voi. Va bene. E allora si oppongono. Ma se vi scambiate preciate, dovete anche essere disponibili ad accettarle. Prego. C'è mai possibile che Roberto non le abbia mai risposto in modo sincero per non deluderla? Come? Quando, chiedo scusa... Ma non chieda scusa... Per cortesia, non parlate. A volte non so neanche se una sua risorsa retorica dire chiedo scusa o se abbiano parlato realmente. Sì, lo fanno. Secondo me lei spesso gli chiedo scusa così, per stuzzicare i suoi colleghi. Andiamo avanti. Voglio dire, potrebbe essere mai successo che Roberto, per non deluderla, o per altri motivi, gli abbia potuto raccontare delle bugie? No, questa domanda non è stata ammessa. Cioè, i racconti che le faceva Roberto o eventualmente le altre persone del gruppo, è possibile che tendevano ad assaggerare gesta? È una valutazione, c'è opposizione da parte del PM. Qui si è piuttosto la domanda. No, se era possibile che tendevano ad esagerare le gesta di quello che facevano, come vuol fare a dirlo? Sono valutazioni, qualunque... Roberto era fedele. È il rilevante, c'è opposizione del PM. Poi è andata a vivere con un'altra donna, se stiamo, prego. Ha avuto delle relazioni extraconiugali. Chi? Ma chi? Roberto, Roberto. No, ma non ci interessa affatto. Signora, c'erano screzzi per... Sì. Per questo aspetto? Sì. Di che genere? Beh, lui piaceva fare la sua vita, a me certe cose, ecco, no, a certe cose, a me non andava bene, non è che andavamo molto d'accordo. Cioè conosceva di sue relazioni? Sì, sì. Da tempo, da anni? Beh, due volte. Lui ebbe l'ultima, quella che andò ad abitare, un'altra... Che ebbe per un periodo e poi... Che non venne a casa? Sì, non so se è una notte, state fuori e poi... Questo in che periodo? Ebbe per un periodo... Adesso il periodo non ricordo bene. È stato una notte fuori con qui, però aveva una relazione che è durata... Sì, so che aveva questa, però... Roberto o gli altri partecipanti del gruppo, le raccontava sempre tutto, anche in ordine particolari? Non sempre. L'avuto di partecipanti ai fatti? Ha risposto su questo? E sui ruoli assunti nel seguito? No, no, abbracate, ha risposto su questo. Sui ruoli che, presunti, avuti, le ha mai raccontato qualcosa? Le ha mai detto qualcosa su chi ha sparato, chi ha preso il bottino, chi è entrato in banca, chi ha ammazzato una persona, chi un'altra? Io so che a volte era Fabio che entrava e mio marito restava fuori, così almeno sentivo dire, però... Da chi sentiva dire? A volte lo chiedevo, chiedevo, a volte sentivo. E il suo marito Fabio? Sì. Le dicevano? Sì, che uno entrava e l'altro rimaneva fuori, se erano in due. E chi entrava? Se erano in due? Sì. Se erano in due? Ora non ricordo, gli altri non... Non ricordo. Quella parola che lei ha detto prima, si faccia i fatti suoi, glielo dicevano sempre o glielo disse solo quella sera del pilastro? No, no, no. Era... La metta al microco. Secondo, diverse volte, mio marito mi rispose che doveva fare i fatti miei. Quando dicevo smettila una cosa e l'altra, non va... A volte mi diceva tu pensa agli affari tuoi. Perché questo è l'altro carrozzo, Presidente, non... No, l'ha detto lei prima. No, l'altro... Sì, va bene. Avvocato l'ha detto lei, la testa e ha detto proprio questo, che già in altre occasioni... Roberto le ha mai disegnato, per esempio, su un foglio uno schizzo per ricostruire la scena e quindi i fatti qualche volta? Le è mai successo? Come? Che cosa è successo? Ah, ti ha mai fatto dei disegni? Beh, disegni. A volte mi è capitato di vedere che con Fabio e Roberto così facevano degli schizzi così di quando parlavano di queste rapine e robe così. Schizzi di che cosa? Che riproducevano? Dove si dovevano... la posizione in cui dovevano essere e così e basta. Non mi ricordo altro. E in che occasioni si ricorda? No. No, un po' varia la cosa. Qual era il sentimento di Roberto nei confronti delle persone di colore? Di Roberto? Adesso passiamo a Roberto, a suo marito. No, di Roberto? Già, l'abbiamo detto, comunque... Cioè... No, non gli aveva molta in simpatia. Eh? Non gli aveva molto in simpatia. E nei confronti degli zingari nomadi? Che un equimismo, pare che stiano gli equimismi. Prego. E nei confronti degli zingari nomadi? Sì, l'ho già detto anche prima, che non li aveva molto in simpatia, anche gli zingari. Sì, 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 non lo so. Anche i nomadi, i nomadi si chiama. Ma anche quelli... Ho già detto prima che non li... Sì, non li aveva in simpatia. In simpatia. Ma sa se in particolare la simpatia o la non simpatia era verso i sinti o i rom? No, guardi, io a parte che non... Se c'era una differenzazione per lui o meno... Ma non lo sa lei se si è i rom? Senta, l'ultima donna che ebbe Roberto, prima di essere arrestato, lei sa di che colore era? Era di colore perché io intanto la vidi un giorno... Di razza bianca o di razza nera? Senta, era di colore. Ma chi era di colore? Però personalmente non ho mai parlato con questa ragazza. Per sapere, Presidente, se amavo o meno le persone di colore? Avevo una donna di colore nero. Quindi no, siccome si parlava di antipatia, ho sentito anche altre domande... Che non avesse... Non voglio fare conclusioni, perché che non avesse... Che non avesse motivi verso i neri aveva anche una donna. Queste sono deduzioni, conclusioni, argomentazioni... Abbiamo pazienza... L'assistante... Non devi chiedere che... Lo abbiamo con una donna che aveva. Va bene. Andiamo avanti. Sono rapporti intimi, eccetera. Senta, lei ha parlato di un raccoglibossoli prima. Che lo ha visto in casa sua, vero? Sì, sì. Quando lo vide, dove lo vide? Dove lo... Lo vedi in un cassetto? Che lo teneva avanti in un cassetto. Quando lo vide? Io adesso di preciso la data, non ricordo. Comunque lo vedi in casa. E può collocarci più o meno il tempo. Un'idea di massima. Lo vide una volta, due volte, quante volte lo vide? Per quanto tempo c'è rimasto lì questo raccoglibossoli? Non mi ricordo. Ci può collocare nel tempo un po' ciladino? No, io non mi ricordo. Non ricordo. Non c'è un'idea di massima. Senta, se voi volete che io dica la verità, io non mi ricordo. Certo, signora, le stiamo facendo questa domanda appunto perché vogliamo saperne di più. Allora, è noto che insiste lei a dirmelo. Sì, no, dice, è inutile insistere. Quando non ricorda... Se lei mi dice, lui mi insiste, io e loro sono costretto a dire la bucina. Se lei non ricorda, lei base dice che io non ricordo. Però vedo che lui insiste, io... No, lui insiste, lei non può che lei... No, signora, io apprezzo la sua onestà, non c'è problema di questo. Insisto a volte perché ne vogliamo sapere di più tutto. D'accordo, quando non ricorda, non ricorda, dice la signora. Non c'è una critica dei suoi riguardi, si mancherebbe, per carità. A volte si insiste, signora, per tentare di collocare, capito, con maggiore precisione, il ricordo. Non dubito, signora. Senta, conosce... ha mai visto un mitra? Ha mai visto? Un mitra. Sa cos'è un mitra? Se lo conosce? Ma chi è che parla? Io ho visto diverse armi. Ho visto diverse armi, cucini, robe così. Adesso un mitra... Che tipo di armi allora ha visto, se riesce a distinguere? Senta, come le ho detto, io di armi non me ne intendo. Però le ha viste, le ha viste. Sì, sì, ho visto di cucini. E il marito aveva una quantità di armi dichiarate, legittimamente detenute, ed era poliziotto. Ma se ci può dire che tipo di armi vive? No, ha detto che non se ne intende. Lunghe, corte, ha visto lunghe. Certo, io posso dire fucini perché erano lunghe, pistole, so che sono corte. Non se ne intende di armi. Ho chiesto se erano pistole, se erano fucini. Sì, fucini e pistole. Non è che vorrei sapere la marca. Il problema è sempre quello. A lei cosa interessa? Perché, lo posso dire. Se ha visto i fucili e le pistole, questo è il problema. A chi cosa le interessa? Se aveva il bambino dove dormiva? Allora, che cosa le interessa? Ha mai visto una R-70? Ma se non sa cui cosa... Perché lo ha dichiarato, Presidente. Eventualmente devo fare la contestazione. Lei disse a un certo punto... Ma c'era in casa la R-70? Ho appreso chiamarsi... Ma le aveva in casa la R-70? C'era? Sì. E allora che contesta? L'ha visto? Che contesta? Soltanto non sa che si chiama R-70. Ma io l'avrò visto per R-70 perché se gliel'hanno trovato, senz'altro l'avrò visto, però... Presidente, signora... Io non conoscendo le armi è inutile che lei mi insista a chiedere una cosa, senz'altro deve averla vista. Signora, scusi, adesso io se vuole le leggo i passaggi che ha fatto. Lei ha parlato di un fucile immetragliatore o ha preso anche chiamarsi R-70? Sono sue parole, non mi raccomando. Senz'altro, però io... Chiedo all'Avvocato di indicare il verbale, per favore, così possiamo seguirla anche noi. Grazie. Allora, nel verbale del 22 novembre 1994 dice ho visto in casa solo una pistola e il cucile da caccia che mio marito teneva legalmente. E la R-70 dove sta? Se lei sta un attimo tranquillo, signor Pubblico Ministero... Va bene, comunque andiamo avanti con le domande. E lei ha chiesto... E lei non gliel'ha citato però il verbale. Qual è questo verbale? Adesso, se mi dà il tempo, no? L'ha detto stamattina. Anche stamattina stesso ha parlato che una volta portò in questura un fucile mitragliatore. Un fucile, sì. Un mitragliatore. E quello lì, la R-70. Sì, però io ho già pregato i difensori, gli avvocati, le parti che quando pongono delle contestazioni devono citare e leggere il verbale contestato. Ha capito? Prima della contestazione avevo chiesto che se aveva mai visto un fucile mitragliatore o meno. Ha risposto. Poi ha detto è quello che una volta... No, lei ha detto che... Ha detto la signora... Quello che vive... Una R-70. Andiamo avanti. Signora, lei normalmente... Come? Normalmente... Lei... A che ora andava a dormire? Come? A chi lo dava? A che ora andava a dormire? Non capisco niente. Io andavo a letto alle nove, potevo andare a letta a mezzanotte. Certo. Sì, non risponda se la domanda non è a mezza. Ah, scusi. Allora, ha già risposto su che ora andava a dormire. Andiamo avanti. Non lo ripeto, non lo ripeto se lo va a leggere dentro al verbale. Andiamo avanti. Ci sono dei periodi in cui cambio orario. Ci sono dei periodi in cui cambio orario. Senta, io cambio orario continuamente. C'è quella sera che mi vado in stanza alzata, sto alzata. C'è quella sera che mi vado ad andare a letto molto presto, va a letto. Chiedo se c'è un momento speso, ho tutte le sere, va sempre così. In estate, per esempio, in inverno, cambia? Come le ho detto, io cambio ogni sera. Se una sera mi vado a letto molto presto, ci vado. La prima volta che va a letto. Ma lui stia era fatto delle domande che riguardavano... L'hanno sentita in procura per due anni di fine. In procura ha avuto a disposizione quanto ha voluto il pubblico ministero. Due ore, il pubblico ministero l'ho sentita. Il problema è quello della qualità delle domande, non della quantità del tempo impiegato. Prego. Senta, ci può dire dei rapporti tra Roberto, suo marito, e Fabio Sare, il fratello? Che rapporti intercolorevano? Rapporti normali, fra fratello? Negli ultimi due anni come erano i rapporti? Tra Fabio e Roberto? Sì. Buoni così così o male, come erano? Ma anche loro, non so, a volte discutevano perché non la pensavano sempre alla stessa maniera. Ma come erano i rapporti? C'erano questi rapporti, si frequentavano? Sì, sì, si frequentavano. C'erano rapporti tesi? A volte sì, perché non la pensavano sempre alla stessa maniera, a volte buona, quando sì sì sì. Come tra fratelli, diciamo. Sì, sì. Cosa diceva Roberto di Fabio? Cosa diceva? Roberto di Fabio. Roberto si esprimeva su Fabio. Signora, Roberto esprimeva giudizi su Fabio. Che a volte, almeno così disse, che a volte sparava anche quando non c'era motivo. Che era un po' pazzo, che a volte, questo sì. Cosa ha detto? Che era un po' pazzo, a volte sparava senza motivo. Roberto diceva che quindi era un po' pazzo. Roberto diceva di Fabio. Sentra, prima e dopo gli interrogatori che lei resi, ha mai incontrato personale appartenente alle forze dell'ordine? Ed in tal caso è stata mai aiutata a redigere memoriali al fine di essere più precisa in ordine a date, circostanze e avvenimenti riferiti? Ma no, non sono mai stata sentita da nessuno. Cioè, nessuno mi ha detto dire così o cos'è? Le vacanze estive, dove le trascorreva normalmente? E con chi? Da quando? Sempre da quando vi siete fidanzati con Roberto? Ah, fidanzati addirittura? No, diciamo da sposati. Da sposati secondo i primi anni anche da sola e lui per i fatti suoi. Gli ultimi anni insieme. Si può dire più o meno quali? Senta, le sto apposta dicendo, siamo stati sposati per dieci anni. Esatto. I primi anni li trascorrevo anche da sola, secondo. Da sola con mio figlio. Dove? Da mio padre o con mia sorella al mare, secondo. Lui per i fatti suoi, se le ferie le prendeva quando... Presidente, ci sono state queste domande qua, molte di queste. Negli ultimi anni. Sono state chieste anche dalla pubblica accusa. O durante i dibattimenti alla testa. Ma non è detto che le debba ripetere, se sono inutili le domande. Lei non è detto che le debba ripetere, anzi le deve scarpare. Ma io ho interesse a sapere... Dove facevano le vacanze ai primi anni del matrimonio. Presidente, ma gliel'hanno fatti gli altri, vorrei fargli anche chi, vorrei sapere... Un'altra volta gliel'hanno fatti gli altri. Non in questo dibattimento. No, 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 non in questa serie. Allora... Non gliel'avremmo ammesso, avanti. Senta. Lei, ho sentito parlare prima di una prova del fuoco. Sì. Sa cos'è la prova del fuoco? Per la banda cos'era? Sì. Cos'era? Dovevano sparare contro qualcuno. Quindi chi voleva entrare in banda doveva fare una prova, diciamo, no? Sparando a qualcuno. Vallicelli. Vallicelli. Occhi presidente della banda. Ma hai imputato di questo processo, avvocato. Si sono fatti per cui risulta anche aver partecipato giù. Vallicelli. Può essere utile per noi. Ha detto che era una prova standard, dove tutti quanti dovevano fare questa prova. E allora... Non ha detto così. Ha detto chi voleva... Allora, chi voleva entrare in banda doveva sottoporsi o meno a una prova sparando? Però di Vallicelli e... Nell'altro non... Non lo so. Chi? Se l'hanno fatto, no. Vallicelli e occhi pinti. Non so se... Se l'hanno fatto, no. Se l'hanno fatto. Volevo sapere chi altro allora. Sì, però loro due non lo so se l'hanno fatto. Allora non era una regola, signora. Ma... La signora non per tutti. Era una regola, quindi lo era o non lo era? Se era una regola ci deve dire gli altri dovevano... Lei ha saputo di questa questione soltanto per l'imputato? Quale? Per chi? Guglielmo. Guglielmo. Per gli altri non lo sa se la regola è stata mai rispettata o meno. Noi possiamo chiedere cosa penso se l'abbia fatto o non l'abbia fatto. Sa che... Presidente, la testa ha detto che per noi era una regola. Sapevo che era una regola. Se ci può dire se la regola è negli altri casi è stata rispettata o meno. Solo questo. D'accordo. Va. Senta, può spiegare, oppure se si è mai chiesto il perché, c'è sempre stata questa totale apertura, questa disponibilità nei suoi confronti, da parte dei partecipanti. Da cosa nasceva? Perché confidavano nel suo assoluto silenzio? Non ho capito, scusa. E come mai, praticamente, Roberto e Fabio, anche gli altri in maniera minore, avevano questa dimestichezza di rapporti con lei al punto da raccontarle fatti i criminosi? Io già le cose le sapevo all'inizio. Perché non avevano un po' di precauzioni? Questo bisognerà chiedere a mio marito. Perché confidavano se l'è mai spiegato questo? Se l'è mai spiegato come non avessero precauzioni? Ha detto se lo chieda a suo marito. Questa è tutta l'apertura. Sì, no. Gli altri sì, no, se la signora... Senta, io non ho parlato perché glielo ho già detto anche prima. Se ne sa perché confidavano in questa disponibilità completa nei suoi confronti? Senta, io complice non sono perché... Come, come? Io complice non sono, è questo che voglio chiarire una volta per tutte. Non è questa domanda, non intendeva questa domanda. Questo glielo posso garantire perché ci saremmo accorti e l'avremmo parata. La domanda è un'altra, dice come mai si era creato questo clima in base al quale... Ecco, questo che voglio chiarire. Io già dall'inizio sapevo quello che mio marito e i suoi fratelli facevano, perciò loro non avevano motivo di nascondere, non potevano. Anche perché, come le dico, mio marito piaceva fare i suoi comodi anche in casa, anche se io ho sempre detto che non volevo assolutamente, assolutamente che succedessero queste cose... Su marito era convinto che lei non avrebbe mai detto nulla. Lui sapeva che aveva molta paura di questa cosa, molte volte ho pianto davanti a lui, che assolutamente ero terrorizzata di queste cose. Non temeva che lei potesse raccontarle queste cose? Non lo so, lui sapeva forse come fare. E gli altri? Gli altri non lo so, bisogna chiedere agli altri. Io non lo so. Cioè, le dici, le dici, le dici... Gli altri, gli altri non lo so. Avevano molta fiducia in lei, dico, c'era un motivo particolare perché avevano questo tipo di... Forse mio marito avrà detto loro che io sapevo e non c'era motivo di... però che non avrei mai parlato, non lo so cosa avrà detto mio marito agli altri. Comunque lei non se l'ha mai posto a questa domanda, questo volevo dire lei. Ma io sapesse quante domande mi sono poste in tutta... da quel periodo che lui ha iniziato questa cosa. Lei ha mai utilizzato somme di Roberto? Come ha mai utilizzato? Somme di Roberto, di suo marito, lei ne ha mai utilizzato? Sì, signora. Allora, io una sola volta ho preso... Ha mai avuto la disponibilità di questi... Signora, nel microfono. Lei ha parlato di una serie di rapine. Sì. Il denaro che si dividevano, le persone che lei osservava dividersi, poi finiva in qualche modo a lei anche? Le veniva da... Mio marito mi dava dei soldi per la casa, ma per la casa, per... Erano soldi sproporzionati allo stipendio che... Ma io non ho mai fatto una vita dispendiosa, non ho mai fatto delle cose... Signora, in pratica, volendo dire, volendo in qualche modo quantificare, in un mese dove c'erano state delle rapine... Ma io non ho mai calcolato, a parte che... Quando le veniva dato? Non ho mai calcolato la cifra esatta di preciso. Grosso modo per far fronte al menaggio familiare. Grosso modo. Non posso, non posso. Un budget mensile, un budget mensile. Un budget mensile. Anche perché io lavoravo, il mio stipendio lo tenevo. Cioè, sei d'accordo. Però non ricordo, senta. Però lei aveva, sapendo che commetteva rapine, lei aveva la consapevolezza che le veniva dato del denaro, certamente provento di rapine e non di stipendio per l'entità delle somme che riceveva. Presidente, ci si può porre una domanda del Presidente spiegando il perché? No. E sarebbe troppo comodo. Comunque, avverbale, avverbale, una domanda che può portare la testa... Chiedo scusa, metto a verbale la mia opposizione, Presidente, credo di averne diritto. C'è solo il sistema della ricusazione del Presidente. Che cosa ci si oppone a una domanda? Avvocato, non suggerisca a motica. Ci si oppone. Ci si oppone motivatamente alla domanda. Sì, sì, io capisco anche che è un'opposizione che ha come fondamento una sensibilità nei controlli della testa. Solo se al fine di dire alla signoria vostra se ritiene di far precedere questa domanda dall'avvertimento che può rifiutarsi di rispondere. Solo questo. Signora? Evidentemente sì, se uno... Ah, nella persona della... Vabbè, ma non lo può fare perché dipende... E non si è proposto. Però giustamente ha fatto rilevare una questione. Ma crediamo che la domanda che è stata posta... Sì, io non... Potrebbe sporla in qualche modo. Quindi lei può rifiutare di rispondere a questa domanda. Se viceversa vuole rispondere a questa domanda, ce lo dica... No, io mi avvalgo della facoltà di non rispondere. D'accordo. Se posso, visto che... Sì, potrebbe sporla. Anche perché io non ho mai calcolato. In uno scrupolo forse eccessivo, ma comunque prendiamone altro. Prego. Ha mai avvisato gli inquirenti di queste disponibilità, di questi conti correnti, di queste somme? Intanto quando è stato riuscito a mio marito, sono stati trovati dei conti, e io questi gli ho risparmiati. Ad esempio la cassa di risparmio della signora lo sa, e la signora lo sa, dobbiamo sapere tutti. Sì, sì, ma evidentemente non vale neanche la pena di trascrivere, quando c'è l'accavallamento. Stia a sentire, avvocato, quali conti correnti? Successivamente, per esempio la cassa di risparmio di Imola, ecco, di tutte queste... Ma quello è il conto corrente che avevamo con mio marito? Sì, sono stati presenti dei giroconti, che sono stati... Infatti la procura, il dottor Spinosa, mi pare che la dottoressa Muschia l'ha chiamata una volta per questo motivo. Allora, mi può far spiegare? Certo. Siamo qui. Nella cassa di risparmio di via Marconi, io e mio marito avevamo un conto cointestato. Ah, mi scusi. Avevamo un conto cointestato. Nel 95, a parte che di quel conto lì, io non ne facevo neanche, diciamo, dopo che era stato mio marito, almeno così mi sembra. Nel 95, io e il mio avvocato andammo in banca e io spostai 50 milioni in un'altra banca. Sì, nella cassa di Imola. No, dico, lei ha avvertito gli inquirenti di questa disponibilità di somme. Ma a parte che fino dal 94 al 95 sono stati sempre lì i soldi, io li spostai solo dopo un anno. A parte che, voglio dire, sono, diciamo, stati scoperti, diciamo, questo giro di somme, lei ha mai sentito la necessità di avvertire qualcuno? A parte che io pensavo che, visto che era lì, il conto era lì, benissimo. Prima che venne chiamata appunto in procura, per spiegare, eccetera, lei sentì mai la necessità di riferirlo a qualcuno degli inquirenti? Che non fosse magari anche quello della procura. Anche perché il conto era nulla banca, in fondo non è che io li tenesse nascosti in qualche posto, benissimo, la polizia poteva... Sì, se ne ha fatto. Ma è stata lei a riferire l'esistenza di questi conti al magistrato della procura? No, di questo conto no, ma a parte che era un conto che è in gestito. E come lo sa l'avvocato Piccolo? C'è un verbale, per esempio. Ecco, verbale? Del dottor Spinossi, la dottoressa Musti. Ma è lei la signora che lo riferisce? No, viene chiamata in procura. No, viene chiamata. Viene chiamata in procura perché volevano spiegazioni su queste cose. Però io ho chiesto, come mai non sentì la necessità? Lo fece lei? Le accetto mai? Mentre gli altri conti, quegli altri soldi che avevamo in un'altra banca, io li consegnai alla polizia, quelli erano soldi che erano lì in quella banca, ma poteva benissimo essere, come posso dire, controllati. Io non avevo niente da nascondere. Fossero, insomma, che non c'era necessità di segnalarlo. Senta, lei ha fratelli? Io sì. Ci può dire i nomi, per così sia? Io ho tre fratelli. Uno Ceccarelli Guido, uno Badiali, anche se abbiamo il cognome diverso, comunque siamo fratelli ugualmente. Badiali Adriano e Badiali Gina. Abitano tutti a Bologna, vero? Sì, dalla zona. Esatto. Come? Guido dove abita, ha detto? A Zola Predosa. Io chiederei anche eventualmente di poter citare questa persona, se poi ritiene. Suo fratello Guido o altri della sua famiglia, era una conoscenza di qualche particolare su questi fatti? No. No. A Zola Predosa? Sì. Ci può dire anzi dove abita, in che via? Dove abita? In via. In che via? No, no, ma non ci dica dove abita, no. Da quando? Ma chi? Il fratello Guido. No, no, non dica, non dica. Allora aspettiamo sull'altra domanda, Presidente. No, poi la dica dopo e torniamo indietro. Sì, dici da lei. A Zola Predosa, a casa di Guido, è mai stato insieme a Roberto? Certo. Presidente, su quegli altri fatti che stiamo trattando, si è verificato una rapina? in Zola Predosa, in quella zona, per cui volevo sapere, siccome asseritamente è anche contestata a Roberto. D'accordo, questa domanda non è ammessa. No, volevo sapere se c'è mai stato o meno a Zola Predosa insieme a Roberto. Sì, dici di sì. In che periodo? Io sono stato a trovare, Roberto non ci andava certo da solo, andava solo con me, e a volte mi accompagnavo se non andava solo. Esattamente, volevo sapere in che anno, da quando abita il suo fratello, insomma. Io non ricordo da quando mio fratello andò ad abitare là. Insomma, la domanda è in che anno la signora è stata a Zola Predosa. Roberto Savi è stata a Zola Predosa. La signora ha detto che è stata con la signora. Ma chi se ne importa quando è stato con la signora e quando è stato senza la signora? Zola Predosa è al confine di Bologna, ci va a chi ci vuole andare. Però sono state commesse delle rapine a Zola Predosa. Ma dappertutto sono state commesse delle rapine. Comunque questa domanda non risponda. Vada avanti. Presidente, poi... Vada avanti senza esagerare, Avvocato Piccolo. Stiamo avendo una grande tolleranza. Abbia pazienza. Anche questa difesa, Presidente. Senta, della persona del condominio che venne a riferire sul furto alla sua auto, lei ci può dire il nome? No. Non l'ha detto il nome? No. Ci può dire perché non può dire il nome? No, non posso dirlo perché non lo so. Vada avanti. Non può dirlo... Vabbè. Prendiamo atto che non lo dice, Presidente. Ma io non lo dico perché non... Non è perché non voglio. Non lo so il nome, non lo so. È un vicino. Sì, si, lasci stare, lasci stare. Senta, signora, lei ci può riferire qual era il suo orario di lavoro? Qual era? Il suo orario di lavoro. E se era sempre lo stesso? Beh, io, il mio orario secondo lavoro alla mattina, circa dalle otto e mezza, nove. Adesso lavoro certo di più. Prima un pochino di meno, diciamo. Si può dire come si chiamava? Vada, vale. Finisco, finisco. Da otto e mezza? Dalle otto e mezza a luna, anche il pomeriggio a volte. Un pochino. Oppure secondo... Nel 91 che orario di lavoro faceva? Gennaio 91? Adesso non ricordo in quel periodo. Non ricordo di preciso. Non ricorda? No. Ricorda dove lavorava? Chiedono i suoi datori di lavoro? Sì, sì, dove lavoravo, sì. Ce lo può dire? Lo devo dire qui il nome della famiglia, anche se non avrei piacere. No, non lo dico. Assolutamente. Guardi, se non sono... Presidente, noi volevamo chiedere la citazione dei testi. Sì, sì, chiede la citazione dei testi che abbiano un rilievo. La citazione di quei testi per appurare se quel giorno o meno... D'accordo, non dica il nome perché la domanda non è ammessa. Va davanti. Allora, noi la verbalizziamo comunque, volevamo sapere, la domanda era diretta... È già stata verbalizzata, avvocato. È già stata verbalizzata, automaticamente viene verbalizzata. A stabilire se i datori di lavoro potessero meno confermare questa circostanza. Il 5 gennaio e il 4 gennaio 91, lei si recò al lavoro. Ma chi lo fa? La signora o un ipotetico da un lavoro? Ma il 5, ricorda che era sabato, senz'altro no, perché io il sabato non vado mai. Il 5 era di sabato e non si va al lavoro. Io il sabato di solito, adesso qualche volta mi capita di lavorare, ma prima no, diciamo. Però il venerdì sì, il venerdì senz'altro devo aver lavorato. Allora, avvocato Lamioni, io faccio le domande, ma perché si serve dell'avvocato piccolo? Lei fa i suggerimenti? Abbia pazienza.